Una partita che rende, penso, orgogliosi tutta la pallavola siciliana perché arrivare a giocarsi già una partita contro i campioni d'Italia in carica di Sandonà e strappare un set non è assolutamente cosa da poco. Immagino ci sarebbero volute essere molte altre squadre oggi e qui al posto nostro. Penso che non abbiamo fatto una brutta figura nonostante dall'altra parte ci fosse una squadra che punta sicuramente a riconfermarsi al vertice della pallavolo italiana a livello di under 15. La formula vi consente comunque di continuare a sperare di poter arrivare almeno tra le prime otto in Italia? Oggi pomeriggio sì alle 16 avremo di fronte la pallavolo fondi che vincendo ci permetterebbe di poterci confrontare tra sabato e domenica per le posizioni che vanno dal quinto all'ottavo posto. Quindi sicuramente il set che siamo riusciti oggi a vincere contro Sandonà deve darci la giusta forza e la giusta motivazione per riuscire oggi ad andare a prenderci qualcosa di veramente bello. Perché comunque arrivare tra le prime otto è un risultato non da poco. Come già lo è riuscire a classificarsi tra le prime dodici? C'è da dire che il livello è particolarmente alto probabilmente anche perché le squadre del nord Italia hanno la possibilità di confrontarsi già nonostante la giovane età con campionati di serie di livello. Sì assolutamente qui a Palermo quest'anno a causa del covid le società sono solamente 12 quindi a differenza degli altri anni c'è stata una scrematura ancora più insistente. Quindi è inevitabile che il livello sia altissimo qui a Palermo e giustamente immagino che l'imoco che abbiamo affrontato stamattina si sia confrontata anche durante tutto l'anno con realtà anagraficamente superiori a loro. Quindi già per ragazzine di 15 anni potersi confrontare anche in campionati di categoria dove in campionati di serie dove giustamente il gap magari di esperienza è maggiore. Quindi giustamente le ragazze dell'imoco sono toste e ci hanno fatto vedere quanto là sopra il livello a livello pallavolistico sia alto. Senti dove può arrivare la Wicondo? Beh non ci nascondiamo che l'obiettivo che perseguiamo sarà quello di riuscire a classificarci tra le prime otto quindi cercare di vincere quantomeno la partita di oggi alle 16 contro fondi che significherebbe arrivare ad un risultato che manca da veramente tanto tempo qui in Sicilia per quanto riguarda il femminile quindi sì quantomeno arrivare tra le prime otto sarebbe un traguardo veramente importante che ci piacerebbe raggiungere.